Il giocatore è arrivato proprio questa notte a Milano, tra pochissimo vedremo le sue immagini Il giocatore arriva per una cifra di 65 milioni più 10 di bonus che vanno allo United, superata tutta la concorrenza che c'era dai Juve a Napoli Il giocatore ha preferito l'Inter, niente Tottenham invece per Paolo Di Bala Mentre al Tottenham arriva Giovanni Logelso dal Real Betis, un ottimo colpo in entrata Un giovane che è molto 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 forte, si è trasferito ma si trasferirà anche Ericsson Si è sempre in Inghilterra prima della fine del mercato inglese che chiuderà oggi alle ore 6 Il giocatore andrà al Manchester United Si trasferirà anche Lozano molto probabilmente ma stavolta arriverà in Italia Ovvero andrà al Napoli il giocatore, il vero colpo promesso da De Laurentiis E sarà pagato sugli 80 milioni complessivi I segnali ci sono arrivati anche dall'ultima partita del PSV Che il messicano non ha giocato Ieri però ha giocato la Roma Che è andata subito in svantaggio nella Michele di Perugia contro l'Atletico Bilbao Ma non si è fatta attendere Anche nonostante molti 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 errori che sono arrivati in fase di costruzione Come ha sottolineato in seguito Fonseca È riuscita comunque a fare molto Non solo questo tiro respinto Poi questo tiro di Hunder respinto dal difensore dell'Atletico Bilbao Ma anche una punizione magistrale di Collarov che vedremo dopo Dopo questo tiro che rischia il 2-0 Ma di Unai Lopez E vediamo il gol Stavolta di Collarov Grandissimo gol Una delle sue migliori punizioni Vediamo il tiro della palla lì è inspiegabile Cioè è clamoroso Poi c'è un altro episodio che segna la partita Ovvero il rosso che arriva al giocatore della Tech Bilbao E poi infine il rigore che sancisce il pareggio Roma però non convincente Convincente invece l'asse Inghilterra-Italia Perché? Che sì È un altro giocatore che molto probabilmente si trasferirà oggi Prima delle 6 in Inghilterra Il giocatore andrà al Wolverhampton Manca solo l'accordo per l'ingaggio Anche Pratt per 26 milioni si trasferirà all'Ester City dalla Sampdoria Ieri è arrivato Danilo a Caselle Il giocatore dopo essere atterrato Ha salutato i tifosi al J Medical Ha visto la prima amichevole della squadra Super accoglienza anche per Nandez Il nuovo acquisto del Cagliari È arrivato direttamente dal Boca Juniors Per lui una grande accoglienza È stato pagato più o meno sui 20 milioni complessivi Amantino Manzini sarà il nuovo allenatore del Foggia Ieri lo hanno intercettato Ma lui non ha voluto parlare Ma molto probabilmente circola attorno a lui Il nome del nuovo allenatore Foggiano Il nuovo allenatore Foggiano Il nuovo allenatore Foggiano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo scudetto di Stefano Barigelli, l'articolo. L'arrivo di Lukaku è un bel segno per l'Inter. Nel taglio basso vediamo Di Bala, no al Tottenham, braccio di ferro con i bianconeri. Paratici deve vendere, anche Mangio Gicirugani e Matuidi resta aperta la pista ai carti. Modric lo stop di Boban, ora è impossibile, ma se Gigio va via potrebbe essere un'idea. Da Numa al Paris Saint Germain potrebbe aprire il mercato dei sogni, compreso il pallone d'oro. Nel taglio alto vediamo invece il Torino. Di Zazza e Belotti c'è la coppia d'oro per continuare a volare in Europa. Andata terzo turno preliminare in casa con i bielorussi del Sogors, ore 21. Avanti col carriere dello sport, sempre per Lukaku il taglio centrale, vince l'Inter. Conte è tuo, contratto di 5 anni, 7 milioni a stagione, dal Manchester United vanno 65 milioni più 10 di bonus. L'acquisto più caro della storia nera azzurra, nottata l'arrivo a Milano, oggi la firma. Mercato inglese, oggi lo stop, Spurs di bala, ultimo assalto, ma molto probabilmente non si farà come vi abbiamo anticipato. Poco Giacolo, Roma non convince con il Bilbao, l'attaccante entra solo nel finale. La gestione è pronta, già loro si salvi grazie ad un rigore regalato, 2-2, Milinkovic è allarme. Lungo stop, la Lazio preoccupata, se si è fermato per un infortunio, si teme una lesione, oggi gli esami, verità. Napoli, adesso James, in attesa del Sidi Lozano, dell'Aurentis stringe per il Colombiano, ormai fuori dal Real. Zidane non lo ha mai convocato. Avanzi adesso con tutto sport, concludiamo, perché nel taglio alto si parla del Torino. All'attacco, stasera a ore 21, Toro Schakitor, andata del terzo turno dei preliminari di Europa League, Mazzarri insiste sulla squadra, attrazione anteriore con Zazza e Belotti. Taglio centrale, Lukaku all'Inter, Juve rispondi con Di Bala. Vediamo adesso il pensiero di Moratti. Meglio Icardi, Conte, DNA pessimo, ovviamente si riferisce al DNA Juventino, del nuovo allenatore dell'Inter. Serve un leader, il Milan ci prova per Modric. Nel taglio basso vi vediamo tanti auguri Federer, continua a divertirci, lo straordinario campione del tennis. Oggi compie 38 anni. Europei, il trionfo delle ragazze nel sincro, bronzo a mar... Zaglia. L'Italia dei tuffi è da urlo. Batchi è pelle cani d'oro. Abbiamo finito con la rassegna stampa di oggi. Noi ci vediamo domani, stessa ora. Grazie. 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 La storia è pura di6 oddigione internazente attravera il giro annumente testo fa Passa ai masini un